E salve tutti broschi e schissalo Targancitano ed oggi siamo qua E io si muzo Ok E oggi siamo qua su Minecraft Dungeons Alleluia raga, alleluia Allora, noi, già io l'ho continuato Però, questo è già il mio personaggio che l'ho completato di già E noi ci andiamo a fare una nuova partita Un personaggio, un personaggio che mi rappresenta Il vecchio Bob Oppure Non so chi è Ma noi, ovviamente, scegliamo Steve La leggenda Steve Jobs Vabbò Comunque noi selezioniamo lui Steve Ok Ci siamo Noi salchiamo perché non ce ne frega niente Ok Andiamo a pugni Vai Ok Però Per non perdere vita Ci riprendiamo In la sua In la sua spada Si lo so Is per attaccare Opla 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 Scars Ok Perfetto Che cosa? Oh Boom Scheletro è andato Boom Affitto Affitto Perfetto E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Ok Ok Scars Perfetto 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 Upgrading Upgrading di livello Ma poi io mi vorrei potenziare l'arco Perfetto Ok Perfetto Potevo anche passare così Wow Che bello Ok Che letro è andato No Crecce No Che bello Sti vendicatori Sono vendicatori Del charpame Un attimo Non ci sono i manichini No Pensavo che c'erano qualcosa C'erano dei manichini Però Abbiamo vinto Ok ragazzi Siamo su Clash Royale Apriamo la cassa magica Così troviamo Una canna da pesca Al 5 Ok Manichini Perfetto Foresta dei creeper Oh my god Perfetto Scusate Ok raga Perfetto Comunque Vi volevo dire Che io Già L'ho completato Questo gioco Ed ecco Perché so Tante cose Comunque raga Il boss È praticamente Impossibile Quasi Impossibile Intanto Ah Che belle È buone Le patatine Perfetto Perfetto Stonks Vi squarcio Oddio Cosa è successo? BOOM Colpiamoli Mi hanno riempito di frecce Però Non è niente Oddio Scusa pecora L'abbiamo attaccato alle spalle Li abbiamo tolto solamente 80 Creeper No aspetta Che cosa è successo? Che buoni cereali al miele Bro per me forse Dovevano lavorare qualcosa Su youtube Forse era un bug Per me dovevano lavorare qualcosa Per me Era un bug L'hanno acquistato Boh Oh one go Mi doveva attacca Oh one you One you Creeper Questo è grazie Umberto Ti ringrazio Umberto Che senso Per avermi fatto imparare a parlare Napoletano Porca puttana Questi zombie Corri 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 Oh l'ho fatto cadere Oddio Sì Sono migliorario 5.000 euro Sì 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 Calmo 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 E' Candice Sì Sì E' Bro il mio gatto Il mio gatto Ha trovato Una moneta Davviva! Ovviamente c'è The Sims perchè non fanno Nella mia casa The Sims La mia casa The Sims io ho un cane e un gatto Cioè voglio sempre tipo creare Tutti i miei amici, tutti la mia famiglia Anche tu? Io no, voglio crearmi solamente io Sei razzista Cosa? Sei razzista Razzista Ma non ho detto che odio i neri Eh si però Però non vuoi creare Ma non è che non la voglio creare perchè non mi va Cioè non mi va proprio Perché la devo creare per forza Senza la madre Senza un padre Il figlio non c'è Ma mi faccio adulto? Uiiiiiii Uiiiiiii Senza scuola Il figlio non c'è Ma sono adulto ca... Però Nona Smith Nona Smith e la scuola Nona Smith Per la Pissi Pissi Ah ma Umberto basta prima che ti muto per sempre Ok bene Aia aia maledetta strega come non si colpirmi Noi siamo immaginati una canzone che fa Tipo quella là di Michael Jackson Wow ma li scortiamo Guarda Io non sto sbottando il video nella galleria Un altro Enderman Perfetto Noi sto recando Avrò 30.000 soldi Sono ricco fra poco Comunque raga scusate se avevo tagliato Perché stavo vedendo se stavo recando o no Corri Oh se ne dà la forza vai 18 e 18 18 E 18 Solamente 18 C'è ma solo io Quando apro la cassa delle scorte E mi mangio il pane Quando mangio il pane Fa tipo Una parte di megalovagna Però Dimmi Aspetta Per un attimo Di sbagliare il video Ok Ragazzi Oddio Calderone malvagio Perfetto 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 Mamma mia quanto li abbiamo tolto Ma fa male Un calderone 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 Ok Ok ragazzi Ci siamo Perfetto Perfetto raga Allora Ci siamo Seleziona Missione Abbiamo completato Anche la palla D'umidicia Noi Ci vediamo In un prossimo episodio Ah E prima che ci vediamo In un prossimo episodio Mettete like Iscrivetevi al canale Ativate la campanella E tutte le notifiche Rimane sempre aggiornati And see you next time Brothers That's